Gli ebrei sono usciti dall'Egitto Il concetto di Eziat Mitzray è un concetto centrale nell'ebreismo Cosa significa Eziat Mitzray? Uscire dall'Egitto Uscire dalle limitazioni La Hasidut è anche una cosa che ti aiuta a uscire dalle proprie limitazioni Però c'è una differenza Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto Hanno praticamente distrutto l'Egitto poi di uscire Con le dieci piaghe Tutto l'Egitto dopo che gli ebrei sono lasciati Da essere una grande cultura È praticamente svanito E dunque Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto Hanno distrutto E poi sono Hanno potuto lasciare l'Egitto Invece Tramite la Hasidut Non dobbiamo distruggere il mondo La materia del mondo E allontanarci da esso Possiamo rimanere in questo mondo materiale E raffinare questo mondo materiale Elevare questo mondo materiale Perché? Perché in essenza Il mondo materiale è buono Dio l'ha creato Dio non ha creato nulla di difettato Il mondo materiale è buono Noi dobbiamo soltanto rivelare questo Come possiamo rivelare questo? Tramite lo studio della Hasidut E tramite l'applicazione della Hasidut Che studiare non basta Bisogna anche meditare Fino che riusciamo a portare questi concetti profondi In azione nella nostra vita quotidiana E dunque quando noi facciamo così Rivelliamo la volontà divina Cos'è la volontà divina? La volontà divina è che ci sia un mondo E che questo mondo sia un mondo perfetto E Dio potrebbe creare un mondo perfetto a priori Ma no Ti ha dato a noi il merito Di perfezionare questo mondo Tramite lo studio della Torah E l'osservanza dell'insuot E specificamente lo studio Della parte interna della Torah Che è la Hasidut Che questa parte interna della Torah Può illuminare tutto quanto Anche il buio più pesto E trovare la cosa positiva Anche nelle cose più negative che ci sono Shalom a tutti